L'opera è sostanzialmente inutile e irrealizzabile, così come concepita, dunque va subito ripensata per evitare di perdere il finanziamento già assegnato, cambiando completamente strategia. E' questo l'auspicio del consigliere comunale ed ex consigliere regionale Nino Marmo, che ha voluto spiegare in una conferenza stampa all'esito dell'esposto presentato a febbraio scorso all'ANAC, autorità anticorruzione, sulla realizzazione della cosiddetta, erroneamente, nuova tangenziale ovesta della città di Andria. L'ANAC rileva ancora più dell'esposto, di quanto contenuto nel mio esposto, le irregolarità procedurali nell'assegnazione di tutta la gara, dell'appalto, di tutta la procedura, più che assegnazione di gara. E questo ci pone dei problemi. Ma la cosa più importante, che dice l'ANAC, è che noi dobbiamo creare subito una soluzione a questo tema che ormai è diventato importante. E noi ci siamo posti il problema di sollecitare adesso le istituzioni, a cominciare da quella comunale, per rimettere in moto la macchina e l'attenzione su questo progetto, che probabilmente non serviva alla nostra comunità, non era utile alla nostra comunità, anche perché da un rilievo fatto, da un'analisi fatta dall'asset, l'asset poi commenta e ci dice, naturalmente vi dovete fare carico della costruzione della nuova strada e della manutenzione dell'esercizio, ma poi dovrete mettere in sicurezza e fare la manutenzione dell'esercizio della vecchia. Quindi i soldi non bastano per tutto. Un progetto ormai risalente al 2013, quando la provincia Batta ha messo a bando la progettazione e la realizzazione del progetto per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro, ma il parere dell'ANA, che è impietoso e coinvolge tutti gli enti che hanno curato questa progettazione. Non tutte le indagini eseguite sui terreni, nessun progetto alternativo a quello preliminare per cui si era chiesto il finanziamento, mancanza di tutti i pareri espressi prima dell'avvio delle procedure, verifica e validazione fatta solo dal RUP. Insomma, tanti errori rilevati dall'autorità anticorruzione che chiede nelle conclusioni rapidità nelle prossime decisioni che partono dalla necessità di mettere in sicurezza l'attuale percorso della SP2 nel tratto andriese. La nostra proposta è quella di ammodernare, mettere in sicurezza, anche con dei limiti di velocità, quindi con una carreggiata più stretta, l'attuale sede stradale, perché comunque quella sede stradale, quell'arteria, andava e va messa in sicurezza, creando la nuova, la vecchia passa di competenza del Comune, il Comune non ha le risorse per mettere in sicurezza quella strada. Lo stesso Nino Marmo, con il suo gruppo consigliare, propone anche di avviare la progettazione per l'anello mancante della tangenziale, un'altra opera strategica che potrebbe decongestionare molto il traffico cittadino. Per farlo però bisogna evitare errori, come per quest'altra opera, o come è accaduto in occasione del raddoppio della SP2 nel tratto verso Montegrosso, in atto attualmente, dove per l'accesso alla borgata è stata completamente stralciata un'opera essenziale, come quella della mitigazione idraulica, oltre che l'accesso dedicato. Noi non possiamo continuare a fare opere che poi non corrispondono alle reali esigenze dei cittadini. Abbiamo la fortuna che è in fase di progettazione il nuovo ospedale, quindi utilizziamo quella progettazione anche per costruire un progetto di accesso all'ospedale che sia efficiente, efficace e che sia sicuro per tutti quanti.